Allora ragazzi, ho scoperto di recente un po' di questi giochi che promettono UGC gratis E la cosa mi sta cringiando altamente per questo ho deciso di dedicarci un video Per chi non sapesse tuttora cosa fossero gli UGC, due cose O vive tipo, non lo so, in Cina, che c'è Roblox tutto strano, particolare Oppure, non lo so, si è assentato dal mondo per 5 anni Ma nel dubbio ve lo spiego al volo Per UGC si intende User Generated Content Che in italiano significa contenuto creato dagli utenti Quindi ragazzi si intendono tutti gli oggetti che sono su Roblox Che sono appunto all'interno del mercato C'è una cosa però con questi UGC Ci ho già fatto un video, se volete andatevelo a recuperare Ci sono quelli gratis, tutti pazzi strani Ma delle persone hanno avuto la bellissima idea di fare delle copie Dei UGC limitati Avete presente quelli che costano un sacco Tipo le Valkyrie, le cose, quelle super mega limitate Che costano un sacco di soldi Ecco, per colpa o comunque a causa del fatto che Roblox Ha reso gratis la possibilità di creare a tutti gli utenti Che sanno farlo UGC Molti stanno creando le copie dei limited Quelli che costano un macello Vi faccio un esempio Da quando c'è questa cosa Per esempio il Dominus Che è quello diciamo che conoscete forse tutti È uno di quelli che viene più imitato Praticamente molti lo danno tra virgolette gratis Molti ovviamente vengono bannati Soprattutto quelli che li creano Però di base attualmente c'è questa situazione Qual è però il problema? Il problema è che ovviamente Essendo che su Roblox girano un macello di soldi Hanno creato dei giochi che promettono E ripeto promettono Che tu se giochi all'interno di questi giochi Ottieni UGC gratis Quindi praticamente questi giochi ti dicono Guarda se tu giochi al mio gioco per tot tempo Otterrai il Dominus Il Dominus di 6.700.000 Robux Spoiler! Io credo che questa cosa non sia assolutamente vera Ma siamo qui oggi signori per vedere se effettivamente è vero oppure no Lasciate un mi piace, iscrivetevi se te l'avete ancora fatto Vediamo Ad esempio quello che è caduto al mio occhio È questo qui UGC non muoverti AFK Praticamente all'interno di questo gioco Ti dovrebbero regalare dei limited Ma come funziona? Ci staremo chiedendo tutti Andiamo alla provare Cioè allora aspetta fammi capire bene Com'è che funziona sta roba Cioè tutti devono stare fermi No non ci credo Cioè tutti devono stare fermi Per 30 minuti E quindi scusami che praticamente Se arriva uno stupido che si muove No non ci credo Guarda Baby Alien Cioè allora quindi fatemi capire bene no? Allora questi sono fermi qua da mezz'ora Vabbè sta lasciando il tizio che prima si muoveva È stato cliccato no? Cioè quindi mi state dicendo che se io premo la W Il timer si resetta Cioè quindi praticamente mi state dicendo Che questo è un ammasso di persone che stanno ferme Per ottenere un UGC gratis Che secondo me non otterranno mai E se arriva lo stupido di turno che si muove anche di un passo Cioè questi hanno perso praticamente il tempo della loro vita Ora la cosa che io mi chiedo è Spero che tutti voi conosciate la verità dietro questi giochi Perché se non la conoscete ragazzi C'è un piccolo problema Dovete sapere che questi giochi fanno una marea di soldi Per il semplice fatto che ci sono attualmente 2.900 giocatori Come fanno a fare soldi? Beh dovete sapere che se voi create un mondo di Roblox E ci entrano degli utenti con Roblox Premium Queste persone guadagnano soldi Quindi che cosa significa? Che entrano quelli con Roblox Premium Stanno fermi ore e ore e ore e ore Sperando di ottenere dei limited che non otterranno mai E questi si fanno un macello di soldi Non ci posso credere Entriamo in un altro server Vediamo che cosa sta succedendo Ci sono tutti organizzati Tutti organizzati Io ho paura ragazzi perché c'è l'idea del fatto che per mezz'ora le persone aspettino Guarda qua Ragazzi 27 minuti già il timer Stanno tutti lì fermi per farlo scadere Pensando che alla scadenza otterranno effetti Che poi scusatemi no? Cioè ragazzi Dani rep 411.000 minuti Che in ore io non oso neanche sapere quante siano 6.850 ore Ma com'è possibile? Spero siano secondi Che in ogni caso sono tantissimi Però ho notato effettivamente una cosa qui Puoi effettivamente azzerare i minuti Cioè mettendo caso Non metti caso che io oggi mi sento generoso E voglio scalare il timer di mezz'ora Voglio fare un regalo a tutti Tecnicamente mancando 26 minuti Se prendo quello da mezz'ora Tutti dovrebbero ricevere un UGC Vediamo quanto costa 2.800 Robux Mi dispiace ragazzi Ma non sono buono oggi Non gli do 30 euro per una roba del genere Mi dispiace Ma che poi Cos'è che si ottiene da questo gioco? Cioè questi praticamente sono i limited che tu prendi? Ma fanno schifo raga È orribile Uno per persona Se rimani qui 225.000 secondi Cosa? No ragazzi Questo gioco spinge la Cioè ragazzi questi sono Cioè se io mi muovo Se io mi muovo in questo momento Loro hanno perso tutto il tempo che Non volevo giuro No in realtà volevo Smettetela di dare i vostri soldi A queste persone Anche se non sono vostri Perché probabilmente sono dei vostri genitori Smettetela di dare il vostro tempo A questi sfigati Che si approfittano delle vostre debolezze Piuttosto andatevene a lavorare E compratevi i limited Ok allora aspetta un attimo Se tutti nel server Non saltano per 30 minuti Otterrai una vittoria Cioè quindi praticamente all'interno del server Qui puoi muoverti Ma ti basta semplicemente non saltare Quanti player attualmente? 48 Qui forse c'è gente leggermente più sana E capisce che non deve giocarci Ma sono curioso Ok Allora qui vedo già gente salta... Dai non è possibile Cioè raga non ci credo Hanno fatto un hobby In un gioco in cui non si può Tecnicamente saltare? Ma è normale Scusami che così non ce la farai mai No dai ragazzi Ma che schifo Ma che schifo Cioè ti invogliano automaticamente a giocare Perché ovviamente mettono No ragazzi non ci posso credere Non ci posso credere Cioè questo è un troll È un troll completamente C'è un mondo vuoto In cui tu non puoi saltare Ma ti mettono un hobby Le menti dietro questa roba Sono veramente diaboliche Fatevelo dire da uno stupido Notare il sound effect Ogni volta che qualcuno di noi chiaramente salta Io sono curioso di sapere cosa c'è Alla fine di quell'hobby Perché c'è scritto free Quindi magari Tecnicamente se salti Riuscirai a Ricevere il tuo limited Credo proprio di no in realtà Ma sono comunque curioso Come si fa a saltare qua? Aiuto ragazzi Io non sono bravo negli hobby In realtà sì No forse no E invece sì Che succede free? Ah sei appena stato trollato LOL Mi sta veramente facendo male all'anima questa roba Cioè io non so Se la gente Si rende effettivamente conto Quella che è all'interno del gioco Cosa che non credo che si rendano effettivamente conto Che effettivamente gli UGC forse li puoi anche ottenere Ma per avere solo il primo Primo pet limitato Devi aspettare mezz'ora Ma per dieci volte C'è questo timer Che ovviamente vabbè con la gente che c'è qua dentro è impossibile Deve scendere Resettarsi E scendere Per dieci volte E io credo che la gente che sia lì ad aspettare come non so cosa Sia lì pensando che appena finisce il primo timer Avranno il loro limited e diventeranno ricchi E si potranno comprare una macchina Spoiler Non succederà mai Basta buttare le vostre vite ragazzi Fate qualcosa di meglio Oh mio dio Oh mio dio UGC gratuito a bracci vibe Passa il tempo con nuove persone 100 animazioni e balli Prova gli abiti corrispondenti E poi anche comprarli Ci mancherebbe Ci mancherebbe Nei comandi c'è Senza test e core blocks nelle impostazioni Bro io non ne ho bisogno Li ho comprati con i miei veri soldi Scusatemi ragazzi la flexata Ma andava fatta Proviamo questo scempio Che ho già paura sinceramente di come potrebbe andare Più UGC Ti regalano anche di UGC Vabbè Già l'atmosfera chiaramente è da gioco Cos'è sta roba Tempo di vita più veloce 391.000 secondi Ok Voglio capire bene che cosa sta succedendo qua Allora sembra costume Quindi posso effettivamente cambiarmi Emo Matching Boy Girl Vabbè mi piace già come sono vestito io Non ho bisogno di fare nulla Allora qui chiaramente puoi dormire Anche se sinceramente non ci tengo a dormire qua con le persone Perché probabilmente mi possono venire come figlie Visto che io ho 23 anni Quella è una Skyroom Quindi presumo si vede al cielo Che caspita sto vedendo Ma che avatar Rezzi Vabbè Sto zitto che è meglio Cos'è qua c'è una stanza Cosa Acquista il VIP 69 Robux Per avere le faccine Ah per avere le cose da Ah quelli sono UGC Ho capito Per avere la Che tra l'altro ce la faccio da Slender Mai la prenderei Sinceramente io nella mia vita Ma d'altronde Che frequenta sti giochi Comunque Siamo lì Siamo lì Lounge Attico Guarda è pieno Pieno di camere da letto Cos'è qua Emo Outfit Oh mio Dio ragazzi Oh mio Dio Oh mio Dio Questo è un outfit da Emo Chiaramente che ti puoi matchare E la gente se le mette Ma gli UGC Qua da dove si ottengono Scusami Shop Ah ti puoi comprare le katane Però non ci sono qua effettivamente Degli UGC C'è oltre alle faccine Che vabbè sono diciamo Quelle Quelle così Ah guarda Core Blocks Senza testa Ma io ce l'ho già il Core Blocks E sono già senza testa Danza Però sì effettivamente Non puoi comprare Gli UGC Quelli seri qua Ah qua Smile Relax Devi entrare nel gruppo Guarda quanta gente c'è qui Ah no ecco ecco Guarda 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 E invece sì puoi prendere gli UGC Guarda la bambina qui con Con la Valkyria Praticamente Qui puoi comprare Puoi prendere praticamente Tipo la Valkyria rossa Che c'ha lei E puoi prendere la Valkyria Anche nera Ci sono 250 copie rimanenti E ti segna i minuti Che tu praticamente Hai per prenderla Cioè costa 300 minuti Quanti sono 300 minuti in ore? 300 minuti sono pari a 5 ore Cioè dovrei stare 5 minuti All'interno di questa roba Per prendermi una cosa gratis Pick the crown to buy No ragazzi ma qua è veramente fuori di testa sta roba No 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 Ma andiamocene via Andiamocene completamente via Cos'è qua? More out Ah guarda Prova uno Se entri qua ti puoi comprare gli UGC Ovviamente è cosa che non farò mai Perché non gli do 150 robux Al decelebrato che ha fatto sta roba Ok proviamo questo L'ultimo che esce dal cerchio Vince E mi si è appena spenta la luce Questo è un segno che io a questi giochi Non ci devo minimamente giocare Ma come ragazzi Disse un vecchio saggio Lo faccio per voi Allora come che funziona praticamente qua? Cioè spiegatemi Voglio anche attivare il volume Ehm Ok Praticamente posso prendere un martello P A soli 2000 robux Grazie Non voglio Oh guarda Ecco qua ci abbiamo i capelli wolfcat Che costano 5 milioni Abbiamo la valkyria Ma ovviamente questi li puoi comprare Ma non ti rimangono nel gioco Cioè nell'avatar di roblox Ma solamente nel gioco E se volessi effettivamente vincere Dei veri Oddio che belli questi Se volessi effettivamente vincere Come funziona? Ah ecco guarda Il prossimo match Start tra due minuti Stanco di aspettare? Sì Sì Ehm Faccio un favore a tutti Andiamo a giocare per favore Dai non ci abbiamo tempo da perdere qua Grazie Sì sì salta coda Andiamo a giocare Ho schippato la coda per tutti Ringraziatemi Ringraziatemi per favore Ringraziatemi Grazie Prego Ok allora come funziona? Perché allora funziona Praticamente che l'ultima persona Che esce dal cerchio Vince Chiaramente il cerchio Si andrà sempre a restingere Ma ovviamente Si può shoppare Tipo i disastri Aspetta Prima di disastri Posso comprare l'immortalità Quanto costa? Per 10 minuti Solo 49 robux Io penso che basta E avanza Mi compro l'invincibilità Così Rimangono tutti Con le mani in mano E ovviamente Inizio a fare Un bordello assoluto Attiva Disastro Con 59 robux Faccio succedere un bordello Vai Vediamo che succede Sono il player numero 14 Oh mio dio Che succede? Che succede? Aiuto 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 Ah clicco un giocatore Per buttarlo fuori Ok lui Perché mi sta antipatico Nel frattempo I ragazzi ho fatto arrivare Un tornado Io ovviamente sono invincibile Quindi Non mi fa niente Non mi fa niente Perché io e robux E gli altri in questo gioco Ovviamente no Quindi vincerò praticamente io La verità però è Cosa succede Se vinco? Cioè mi danno effettivamente Dei robux Cioè non lo so Mi danno dei limited Non lo so come funziona Cioè voglio capirla questa cosa Quanto ci mette? Ok sta per essere buttato fuori Spero non io Che sono il 14 Chi è che viene buttato fuori? Attenzione Dimmi non io 3 volte ha ricevuto questo giocatore Dimmi che non sono io Ti prego Ho shoppato Il 10 Va bene Siamo ancora in gara Questo gioco durerà 6 anni Raga 6 anni Ho appena scritto Che voglio eliminare Il giocatore numero 20 Ed è quello che faranno tutti Perché quello con i robux Che ha shoppato tutto Sono io Quindi i miei sudditi Mi ascolteranno Scommettete Vediamo chi viene eliminato Da questo gioco Madonna Se eliminano a me Vi giuro che Faccio saltare in aria Il server Ve lo giuro che Li faccio saltare in aria Li faccio scoppiare Questi qua Vediamo 3 voti di nuovo Ma dopo vedere Che buttano fuori me Ti prego No non io Non io Non io Non io Non io Il 12 Non mi hanno ascoltato I miei sudditi Non mi piace questa cosa Oddio sono arrivati I big noob Chi sono i big noob Madonna è assordante Questo rumore Cosa fanno i big noob Ammazzano tutti i giocatori Oh mio dio Cosa che gli fanno Cioè li schiacciano E gli cagano in testa Tipo non l'ho capito Raga Questa cosa mi fa un po' Voglio schippare il voto Veloce Come si fa a schippare il voto Con 25 robux Va bene Come si fa Starta 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 Vai Voto anticipato Noi non vogliamo perdere tempo Vai Il 3 Il 3 perché è stupido Via vattene 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 Non ti voglio Via Raga sto ricomprando i disastri Perché non me ne frega niente Voglio tutti fuori E voglio vincere io Sono miei Sono miei I miei saranno tutti UGC I miei I miei Chi è che sta arrivando Un altro big noob Un altro Continuerò a comprare Ne voglio un altro Ne voglio un altro Voglio far succedere il bordello Dentro questo server Devono scappare le persone Via 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 Oh meteore 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 Madonna Madonna Vabbè tanti sono invincibili Non mi fanno niente a me Non mi fanno nulla Oddio le meteore Raga quanti sono morti Siamo pochissimi all'interno Aspetta Ma vedi che mi cacciano fuori Perché sto shoppando le cose Vediamo Madonna raga Di che buttano fuori me palesemente Perché sto shoppando E sto rovinando il gioco a tutti Vediamo Ok due voti ha ricevuto Questo giocatore E chi è? Il 3 L'avevo votato io ragazzi Per forza Raga penso di aver rotto tutto Ho attivato due tornati Sta succedendo un macello Ho votato per il 19 Ma che c'ha quello Le crisi Aiuto Aiutatelo raga Che cosa gli è successo A quel ragazzo Madonna aspetta Ma se mi hanno votato a me Perché siamo 1, 2, 3, 4, 5 In game Oddio 6 No raga Non voglio essere buttato fuori Questo player ha ricevuto Due voti Non io No Non sono io vero? Il 19 E andiamo E andiamo Siamo ancora in gara Dai Ragazzi siamo rimasti in 3 E io ho votato per questo tizio qua Che è il 20 Voglio capire chi viene buttato fuori Perché quel tizio non si è avvicinato a nessuno E non ha votato nessuno Voglio capire come deve finire questa cosa Io sto spendendo tutti i miei robux Per far cadere meteore Tanto alla fine a me non mi fanno nulla Perché c'ho lo scudo Incredibile Quindi non mi fanno assolutamente niente Però sono curioso di sapere Chi verrà buttato fuori a sto giro Lì sono crepati tutti Ma vabbè Dettagli Ho paura Chi è che viene buttato fuori? 3 voti Oddio E chi è? Non io vero? Uh Il 20 Adesso sta a noi Maledetto Ce l'ho proprio con te Esatto Ti renderò la vita un inferno E non hai la più pallida idea Di come finirà questa roba Allora intanto startiamo subito il voto E adesso la tua vita finirà caro mio Perché comprerò tanti di quei disastri Caro mio che tu non hai idea Non hai la più pallida idea Di come finirà Mo' vedi Mo' ti distruggo l'anima Ti faccio distruggere da qualsiasi cosa Tutto Tutto Deve saltare in aria Tutto Meteore Arrivano le meteore Amico mio devi scoppiare E non è una che te ne metto Te ne metto 2000 Tanto io sono invincibile A me può cadere Pure un grattacielo addosso Gli può cadere Sei tu che ci muori caro Bel tornado qua Che c'è bello Che bello Oh Là Vai 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 Il bel tornadino Vai 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 Faglielo arrivare Sì sì Salta pure salta Vai tranquillo Vai tranquillo Salta pure salta pure Tanto non morirai assolutamente Aspetta un attimo Che ne compro un altro Non si sa mai Cos'è Cos'è che spunta Altre meteore Massi Vai Eccolo Ops Siamo avvinto Siamo avvinto Chissà che cosa succede Ragazzi adesso Ora però sono curioso Che cosa succede Ho vinto qualcosa Spero di sì Almeno un UGC Perché ho vinto qualcosa ragazzi Ho vinto una vittoria Climb UGC Scusami ho perso mezz'ora della mia vita Mi stai dicendo E devo vincere altre 800 volte Ah no Altre 3 volte Altre 3 volte E posso comprarle le vittorie Cioè 749 Robux E vinco due vittorie Così praticamente Io ne ho 3 E avrò il mio UGC Gratis Giusto Sì Avrò la medaglia E tipo Non lo so La zombie mask viola Perché Ah no Però non si può prendere La zombie mask viola Perché fa schifo E allora la Neon demon mask Questa La voglio Sì questa La posso prendere Sì A 0 Robux Quindi posso comprarla Non ci credo E come faccio adesso A pre A metterla Cioè ce l'avrò nel mio avatar Non ho capito Oh mio dio Ce l'avrò nel mio avatar Mi state dicendo Non è possibile Ragazzi non ci credo Non ci Ma quanto costa sta roba Quanto costa Voglio saperlo Ma Come tabella prezzi 0 Non è possibile Scusatemi Cioè nessuno la vende Non ho capito Ah perché È proprio fatta apposta Per il gioco Quindi tecnicamente Io ho speso 700 Robux Ma questa roba Non la vende nessuno L'altra tipo simile La vendono a 100 Robux Però Allora Tecnicamente Io un limited L'ho ottenuto In modo Sbagliato Penso Però l'ho ottenuto Perché se vado su avatar Io il limited Ce l'ho Raga guardate qua Ce l'ho Fa schifo Perché fa schifo Però ce l'ho Ragazzi Traiamo le nostre conclusioni UGC gratis Di Roblox All'inizio Avevo Un'impressione Veramente negativa Però poi Effettivamente Siamo riusciti Ad ottenere qualcosa Come potete vedere Poi alla fine I risultati Parlano da sé Come potete vedere La mia faccia È bellissima E tutto questo Devo dire Che non mi è costato Assolutamente niente Sono contento Di averlo fatto Ciao